Ciao, allora in questo tutorial ho usato gli ombretti della Essence, i due ombretti della Essence, ho usato anche le ciglia finte della Essence, quindi so che molti di voi mi avevano chiesto appunto di usare i prodotti, non li avevo mai esatti, questa è la prima volta che li uso, quindi dopo il tutorial vi dirò le mie impressioni, che sono sempre relative perché appunto questa è la prima volta che uso questi prodotti. Comunque, questo è il trucco e vediamo cosa è combinato. Ho già applicato la base, adesso il primo colore, il primo ombretto che userò è questo della Essence, che è il numero 18 Super Babe. Userò una blending brush e questa è le 25 della Sigma e ho spruzzato un po' di, in questo caso ho spruzzato un po' di nebbia fissante, nebbia fissante, fix plus o anche water sta dicendo, o anche acqua se non avete nessuna delle due. Inizio a sfumare. Il prossimo colore è il mio ombretto a pezzettini, lo so, lo so, potrei ricompattarlo, però sinceramente non ho avuto il tempo. E per applicarlo uso la 239 della MAC. Anche questo lo applico bagnato. Anche sotto applico il Black Goddess, però stavolta uso un pennellino più piccolo. lo metto, questo ad esempio è appunto il 239, vedete che c'è la differenza. E applico Black Goddess, quindi usando sempre il pennellino bagnato. Qui, avendo questa forma piccola, essendo più piccolo, è perfetto proprio per arrivare in questa zona e creare una linea che arriva proprio all'angolo interno. Applico l'ombretto color champagne della Revlon sia sull'archeta sopraccigliare che all'angolo interno. Applico la matita verde, che è la numero 03 Green della Milani. Applico il mascara. Le ciglia finte sono della Essence. Adesso applico l'eyeliner liquido sopra proprio l'attaccatura delle ciglia finte, partendo dall'angolo interno. Come fard uso il fard della Kiko, il numero 103. Highlighter. Sulle labbra uso questo l'uscita labbra della pupa, che è il numero 03. Allora, questo è il look finale. Cosa ne penso? Dei prodotti che ho usato, in particolar modo dei prodotti della Essence. Il verde mi ricorda molto lo Humid della MAC. Il nero è un bel nero, poi i glitterini lo rendono anche più divertente. È un po' più facile anche da portare, perché appunto non è il nero intenso. E niente, per il resto, le ciglia, le ciglia finte. Le ciglia finte, io sinceramente per il prezzo non posso lamentarmi. Sono un po' rigide, proprio come attaccatura. Io di solito preferisco le ciglia che sono un po' più... dove ci sono ciglia lunghe, ciglia più corte, che secondo me sono un po' più naturali. Mi ricordano vagamente le numero 03 di MAC. Comunque sono, lo ripeto, sono delle ciglia carine, soprattutto per il prezzo. Ma come ho detto, questa è la prima volta che le uso. Le userò sicuramente altre volte, quindi vi farò sapere cosa ne penso. Comunque, questo è il look finale. Ciao!